Attilio Fontana ha visitato l'aeroporto di Malpensa e ha detto che crede molto in questo scalo, è da sostenere. È una grande realtà, un grande aeroporto in sviluppo, lo ha precisato lo stesso governatore dopo averlo visitato. Ha poi aggiunto che si deve continuare ad appoggiare Malpensa e che si dovrebbe dare una mano al servizio aeroportuale perché ha una grande potenzialità sia dal punto di vista del lavoro diretto e indiretto che come attrattività sul territorio. I dipendenti di Seade e Malpensa sono passati da 16.000 a 20.000 in quattro anni, ha sottolineato il presidente di Seade Pietro Modiano. Le aspettative dell'aeroporto sono alte, la regola è per ogni milione di passeggeri, 1.000 occupati in più, ha chiarito Modiano. Questo significa che se le cose vanno come ci immaginiamo avremo un potenziale di crescita di 10.000 occupati nei prossimi 6-7 anni. Tra i punti principali cui il governatore Fontana insieme ad alcuni membri della Giunta, tra cui il vicepresidente regionale Fabrizio Sala, gli assessori terzi ai trasporti, Cattaneo all'ambiente e Caparini al bilancio, ha discusso con i vertici di Sea, collegamenti ferroviari, formazione del personale e nuove tratte. Cercheremo di aumentare i collegamenti attraverso le ferrovie e di contribuire a realizzare anche il collegamento T2-Gallarate, ha assicurato Fontana, insistendo con il governo per aumentare l'apertura di ulteriori collegamenti internazionali di cui si sente la necessità. Inoltre, tra gli obiettivi di Malpensa c'è quello dell'aumento dei voli diretti. Siamo reddici da un lungo viaggio in Cina per attrarre voli diretti verso Malpensa e abbiamo concordato che tutte le iniziative che potenziano l'attrattività di Milano e della Lombardia nei confronti degli altri paesi vadano coordinate. Noi ci siamo e fare sistema è veramente la chiave di volta di tutto, secondo Modiano. Infine, la formazione. Secondo il presidente di SEA serve fare pressione sul sistema formativo del territorio che va anticipata in modo che il sistema scolastico si prepari a garantire la formazione delle professionalità adeguate.